Avrei tanta voglia di parlare dei liberisti che dai loro divani emettono sentenze quotidiane, ma non lo farò. Ci avete scritto dicendo che avete ordinato questo tipo di siringhe, perché anche consigliati dai pareri del Comitato Tecnico Scientifico, dell'Istituto Superiore di Sanità e dell'Azienda Produttrice, nel caso di Specie Pfizer. Ma lei è più contento di farsi vaccinare da una siringa più performante o da una meno performante? Sarebbe davvero meglio poter dire che i ritardi dipendono da noi, come qualcuno non perde l'occasione di insinuare. Abbiamo lanciato la call per chiedere a 3.000 medici, a 12.000 infermieri, di andare a popolare questi fiori, queste primule che saranno nelle piazze italiane e dove tutti, coloro che lo vorranno, potranno andarsi a vaccinare. Sono arrivate le prime dosi simboliche dei vaccini. Intravediamo il primo spiraglio di luce dopo una lunga notte. Fin quando durerà l'emergenza ci sarà un commissario straordinario all'emergenza. Poi se continuerà ad essere a curio qualcun altro, questo ce lo diremo vivendo. Ed è evidente che non è rimasto così.